extra nitro x road nasce nel 2014 successivamente all'interesse di extra verso un risultato che ottenne nel 2012 partecipando alla finale mondiale di maui di cross triathlon siamo riusciti ad entrare praticamente nel circuito di estra sport club è un circuito che sostiene extra come aiuto alle piccole realtà sportive locali il supporto di estra fondamentale è entrato a pieno titolo nel nome della situazione perché è solamente grazie a estra che esistiamo logicamente come ho detto nasce per supportare un gruppo di persone che sono delle persone adulte e vorrebbero vedere sicuramente crescere il numero degli affiliati ma con età che sono sicuramente sotto l'età della maggior età il fatto di vedere ragazzi che si avvicinano al nostro sport sarebbe il nostro più grande di successo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti